L'amministrazione comunale di Teramo è sull'orlo di un baratro. Il sindaco Brucchi è stato infine abbandonato anche dallo zoccolo duro della sua maggioranza, Futuro In, gruppo consigliare che fa riferimento al vicepresidente del Consiglio regionale Paolo Gatti di Forza Italia e che lo ha sostenuto fino a ieri. Alla lettera nella quale i consiglieri gattiani lo invitano a dimettersi per paralisi amministrativa, il primo cittadino risponde che non lo farà mai e poi mai, che a sfiduciarlo dovrà essere il Consiglio comunale. Ma oggi arriva anche un altro abbandono per Brucchi, quello dell'ex presidente della regione Gianni Chiodi, esponente di Forza Italia, stesso partito del sindaco di Teramo che gli consiglia di dimettersi, non avendo più una maggioranza e di cambiare passo. Stamattina, devo dire, quando ho aperto il giornale mi sono un po' sorpreso, innanzitutto perché ho scoperto che Gianni Chiodi è in questa città e abbiamo potuto apprezzarlo. In questi quattro anni, devo dire che è la seconda volta che lo sento parlare di Teramo, non dei problemi di Teramani, però di Teramo. È stato sindaco di questa città per quattro anni perché poi si è dimesso per andare a ricoprire una carica più importante, quello di presidente della regione e da un presidente emerito non ci si aspettano interventi di questo genere, però ne prendo atto. E io sono pronto a dimettermi se lui si candida a sindaco nuovamente di questa città. Io sono pronto a dimettermi, mi dimetto domani mattina stessa. Gianni Chiodi però si ricandida a sindaco e rinuncia anche lui a questa oramai certa candidatura al Parlamento. Domani che cosa succederà? Domani io spero e auspico che domani tutti siano consiglieri responsabili, rispettino il mandato dei cittadini che i cittadini hanno dato loro e votino il bilancio. Spero che voteranno il bilancio perché è un atto importante. Se così non dovesse essere ognuno di quelli che domani non terranno fede all'impegno preso con i cittadini, non col sindaco Maurizio Brucchi, con i cittadini vanno a dire se ne assumeranno la responsabilità di fronte alla città. Io ci sarò, sarò presente, ma sono certo che saranno presenti anche altri e poi vedremo chi davvero vuole bene a questa città e chi davvero come fino all'altro ieri ha dichiarato che non voleva il commissario perché il commissario sarebbe una iattura per questa città e domani magari invece dirà che vuole il commissario e poi i cittadini valuteranno. Io ci sarò.